Erika Sfascia, avete vinto il tiebreak questa volta e un tiebreak infinito perché non finiva mai, match point da una parte e match point da quell'altra Sì, è stato veramente tosto, è stato un tiebreak, cioè non era un tiebreak, praticamente è finito a 25-23, quindi era un altro set è stata una partita combattuta, questo perché effettivamente i varoli sono gli stessi, si è visto anche oggi penso quindi niente, alla fine abbiamo vinto noi e adesso si va a gara 3 Adesso sabato torniamo a San Giustino Eh, sabato sarà una gran battaglia, però penso che sia il modo migliore per cui poteva finire questa finale nel senso che comunque uno per uno adesso la bella San Giustino speriamo che stavolta sorrida a noi la partita San Giustino